Una rassegna dell'altro mondo è l'espressione che sorge spontanea scorrendo le proposte della Biblioteca della Regione a Torino. È visitabile fino al 13 ottobre la mostra Pianeta Urania che propone una selezione di albi che hanno fatto grande la collana editoriale Urania con una raccolta di romanzi e riviste di fantascienza. Le conferenze del mercoledì, fino al 10 ottobre, sono invece legate al tema della mostra e all'astronomia. Questa è la sintesi di una collezione di oltre 3.000 pezzi qui ce ne sono un centinaio ed è un po' la storia della fantascienza in Italia dall'inizio degli anni 50, esattamente dal 52 fino agli anni 80. Sono pezzi storici, belli da vedere e belli da ricordare. Credo che valga la pena venire a ricordare le letture giovanili.